Vi voglio parlare delle mascherine. Io non so se diventeranno obbligatorie, lo vedremo nei prossimi giorni. Dipende dall'Istituto Superiore di Sanità che fino ad oggi ha detto che bastavano le distanze di sicurezza, tranne in casi particolari. Vedremo cosa succederà, ma di certo delle mascherine avremo sempre più bisogno per andare a fare la spesa, ma nella fase 2, quando partirà anche, per andare a lavorare in sicurezza. Per questo da una parte abbiamo avuto la garanzia che oggi nelle farmacie comunali, da oggi in poi, ci saranno forniture costanti, quindi le potrete trovare tutti i giorni, e dall'altra abbiamo deciso di acquistarne almeno 100.000 da distribuire gratuitamente ai pesaresi nel mese d'aprile. È un'iniziativa che faremo con la Croce Rossa e abbiamo appena chiesto questa mattina i preventivi alle imprese marchigiane che hanno deciso di riconvertire la propria produzione.